Era un po' di tempo che non parlavamo di blues, oggi flam e andiamo a vedere cosa succede, via! Ciao! Ben ritrovato nel mio canale, oggi ho deciso di fare una cosa un po' alla vecchia, un po' il blues, quello roots, il blues quello un po' sporco, e appunto per fare questo stile ho deciso di incastrare un piccolo flam all'interno dei fill che possono essere fatti nel blues. Oggi vediamo veramente una short lesson, andiamo subito sul dunque. Allora, prima cosa, utilizziamo questo flam nella terzina, quindi nel primo e ultimo colpo. Frase di base è questa. Molto utile è quella di spostare la mano in questa direzione, ti darà la possibilità insomma di essere più veloce, perché questa ovviamente ti crea un po' più di inghippi. Seconda parte, a quel colpo di rullante andiamo ad aggiungere un flam di sinistra, quindi utilizzando il colpo piano per poi andare sul ride, aggiungo il flam di sinistra. Vediamo solamente questo. Facciamo insieme, vediamo che tipologia di sound esce. Come hai potuto notare questa frase, comunque ti porta alla cadenza dello shuffle, ti tiene sul pezzo, ma ti sgancia da quello che può essere la frase. Aumentiamo la velocità. Una particolarità che potrebbe avere questo stacco è quello di spostarsi magari sui fusti, per dargli proprio questa cadenza un po' di diversità. Andiamo a questo punto a vedere una base, ti suono questa cosa che a me aiuta sempre tantissimo quando fraseggio, quando i musicisti ti chiedono di stare tranquillo, vuoi fare un fill, non vuoi, come dire, rompere le scatole agli altri musicisti, questo funziona quasi sempre. 1, 2, 3, 4... Grazie a tutti. 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 Lezioni Zoom. E insomma da Enrico è tutto, ci vediamo presto, stami bene, ciao.